Le ultime proteste in ordine di tempo arrivano da alcuni residenti sulla via romana d'Antraccoli. L'erba sui cigli della strada è diventata così alta e invadente da impedire una visuale accettabile a chi si immette sulla sede stradale, con conseguenti pericoli per gli automobilisti e crea problemi anche a chi percorre la strada in bicicletta ai margini della carreggiata. In realtà la questione degli sfalci dell'erba è diventata sempre più problematica negli ultimi anni, a causa delle risorse sempre più ridotte a disposizione degli enti locali per questo tipo di lavori. Ovviamente non da tutte le parti la situazione è da emergenza, ma sicuramente quest'anno più che mai, su molte strade lontane dai centri abitati, c'è la sensazione che l'erba abbia raggiunto limiti mai toccati finora. Le competenze variano a seconda della classificazione delle strade comunali o provinciali. C'è poi anche il problema delle rotatorie o delle aiuole spartitraffico. Questa è la rotonda di Capannoli sulla via Pesciatina, con le auto che spariscono letteralmente dalla visuale dietro una foresta verde. Anche in casi come questi c'è bisogno di interventi urgenti, ma a causa delle scarse risorse economiche, gli enti programmano ormai stabilmente solo due tagli all'inizio e alla fine della bella stagione. In molti casi però evidentemente questo non basta.